Mi chiamo Antonio Maselli e sono il direttore dello stabilimento CNH Industrial di Iesi, il centro di eccellenza New Holland per i trattori specializzati, polivalenti e utiliti. Ci troviamo sulle colline marchigiane, nel cuore dell'Italia. Lo stabilimento nasce qui nel 1948, inizialmente per la produzione di componenti di macchine agricole e aratri. Dal 1986 si producono internamente trasmissioni e trattori e dal 2001 anche le cabine. Oggi Iesi è uno dei plant più importanti al mondo per i trattori specializzati e di media potenza New Holland, che qui nascono e vengono consegnati a clienti in tutto il mondo. Il plant di Iesi si estende su 185 mila metri quadri, qui lavorano più di mille persone e la produzione è organizzata in cinque diverse aree che rappresentano il cuore pulsante dello stabilimento. Per ogni ora di lavoro vengono prodotti circa 6 trattori, destinati a raggiungere 61 mercati in tutto il mondo. Qui è stato prodotto anche il trattore T4-120F, che recentemente è stato eletto Trattor of the Year 2023 nella categoria miglior specializzato. Siamo orgogliosi di poter dire che è a Iesi che nascono queste eccellenze. La maggior parte delle persone che lavorano qui sono dedicate alle linee di produzione e al controllo qualità. Ma il plant ospita anche un customer center che accoglie i visitatori, fa da showroom per le macchine in cui i concessionari e i tecnici da tutto il mondo vengono a fare i corsi di formazione per conoscere i nostri prodotti. Realizziamo internamente il 65% delle trasmissioni e il 97% delle cabine assemblate sui nostri trattori. Tutti i componenti ed il trattore completo vengono testati nelle nostre aree di collaudo adiacenti alle linee di produzione. I nostri collaudi garantiscono controlli sia strutturali che legati ad affidabilità, durevolezza e performance e rappresentano un processo fondamentale all'interno del nostro sistema produttivo. Diciamo sempre che a Iesi non si produce mai due volte lo stesso trattore ed è proprio così. Qui vengono prodotti circa 500 modelli diversi con oltre 16.000 configurazioni e opzioni possibili. È sicuramente questa capacità di soddisfare le richieste più diverse il nostro grande punto di forza. Il risultato più evidente di questa grande versatilità è la serie T4 FNV. I trattori specializzati New Holland lanciati nel 2022 e arrivati dopo un lungo lavoro di analisi, ascolto dei bisogni dei clienti e un'importante riorganizzazione dei processi interni. Come tutti gli stabilimenti CNH Industrial, anche il sito di Iesi ha implementato il CNH Business System, un sistema di gestione strutturato e pensato con il cliente al centro di tutto. Incorpora i nostri valori aziendali in tutti i processi con l'obiettivo di avere un continuo miglioramento in sicurezza, qualità, performance e costi. Questo sistema coinvolge tutti gli operatori, incoraggiandoli ad avere parte attiva in una crescita costante e proficua. Per focalizzarci sulla qualità abbiamo reso prioritaria una costante comunicazione con i concessionali, che sono un punto di ascolto quotidiano della voce dei nostri clienti e che possono quindi dirci esattamente come e cosa va migliorato. La nostra priorità è quella di continuare a garantire la qualità massima dei nostri prodotti, mantenendo la reputazione di numero uno nel mondo e soddisfacendo le richieste e le diverse sensibilità dei clienti. Vedere riconosciuti la qualità e l'impegno costante che mettiamo quotidianamente nel lavoro è sicuramente la massima soddisfazione possibile.